Appello di Conte al governo per una collaborazione nel rilancio di Taranto nel tentativo di trovare una soluzione alla vicenda dell'ex Ilva. Salta l'incontro con i vertici di Arcelor Mittal, sempre più vicini a lasciare il paese. Atteso per oggi il deposito in tribunale dell'atto con cui la multinazionale chiede di recedere dal contratto. L'Isis ha rivendicato l'attacco ai militari italiani in Iraq. Le condizioni dei cinque soldati italiani, addestratori delle forze speciali, restano serie ma nessuno fortunatamente è in pericolo di vita. Contro il terrorismo transnazionale occorre continuare a garantire la presenza nella zona di soldati italiani, ha affermato in una nota il Consiglio Supremo di Difesa. Incontro ieri a Roma tra il Presidente del Consiglio Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel sintonia a comune sul tema dei migranti. Per il Premier serve una gestione europea e ringrazia per la collaborazione tedesca nelle redistribuzioni dei profughi come previsto dall'accordo di Malta. La Merkel ha chiesto che l'accordo sia condiviso da un numero sempre più ampio di paesi. E' alta tensione in Bolivia dopo le dimissioni annunciate del Presidente Evo Morales. Questa notte è partito per il Messico che gli ha concesso asilo politico ma ha promesso che tornerà presto con più forze ed energie. Continuano gli scontri soprattutto nella capitale, La Paz. Buongiorno, sono le sette e mezzo, benvenuti al telegiornale che apriamo andando a vedere gli sviluppi della vicenda Ilva, ex Ilva, perché il Presidente del Consiglio Conte ha scritto una lettera rivolgendosi direttamente ai propri ministri, quindi al governo. Sono in previsione del Consiglio dei Ministri che ci sarà fra due giorni, chiedendo loro di mettere sul tavolo chi le avesse, proposte, idee e qualsiasi cosa possa essere utile per rilanciare quello che lui chiama un cantiere taranto. Intanto, come sapete, non c'è stato l'incontro, non c'è stato ieri ed era abbastanza scontato, un po' meno che non ci sia oggi, l'incontro con i vertici di Arcelor Mittal, che però ancora non hanno depositato a Milano l'atto di recesso dall'affitto dell'ex Ilva. Vedremo se accadrà oggi o se invece c'è ancora un po' di margine di trattativa. Il Premier Conte scrive una lettera aperta a tutti i ministri mettendo nero su bianco quel che aveva già chiesto, collaborate, non remate contro, fornite idee per rilanciarla. E nel frattempo si viene a sapere che non ci sarà nemmeno oggi l'incontro tra il governo e Arcelor Mittal per discutere il futuro del complesso aziendale Ilva. Più che segnale di rottura, però, la seconda notizia potrebbe essere la spia più evidente del lavorio compiuto sotto traccia tra le parti, che rischia di assomigliare anche a una corsa contro il tempo. Lo scarico delle materie prime, destinata all'ex Ilva, è stato sospeso infatti dai porti di Taranto e Brindisi. Esclusa, salvo a questo punto ripensamenti clamorosi dopo la chiusura di ieri del ministro Gualtieri, la strada della nazionalizzazione sul tavolo resta, come la notizia dell'apertura dei franco-indiani a partner pubblico sembrerebbe confermare, l'opzione di compromesso, o più esattamente di compromesso del compromesso, ovvero la rinuncia a gestire l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, facendola tornare alla gestione commissariale dell'Ilva per concentrarsi sull'area a freddo e i tremmoli del porto di Taranto, ma con un numero di esuberi molto inferiore, almeno la metà dei 5.000 prospettati da Arcelor Mittal, dagli attuali 10.700 dipendenti. Ipotesi, naturalmente, ancora da definire, che metterebbe a nudo la pretestuosità di ogni polemica sul cosiddetto scudo penale. L'area a freddo del siderurgico di Taranto non è stata interessata dal provvedimento di sequestro del luglio 2012 nell'inchiesta per disastro ambientale. In parallelo, legata alla trattativa e tutta ancora in sospeso, scorre la vicenda legale che passa per la Procura di Milano. Il ricorso, presentato, non ancora depositato da Arcelor Mittal Italia la scorsa settimana contro i commissari straordinari dell'Exilva, con cui si chiede di recedere dal contratto di affitto, e il contro ricorso, cautelare, con modalità da discutere con urgenza, preparato dai commissari straordinari in cui si sostiene, invece, che non ci sono le condizioni per il recesso del contratto e che il ritiro dello scudo penale non è una condizione sufficiente per permettere ad Arcelor Mittal di venire meno al patto dopo la nota di disimpegno e l'atto di citazione in tribunale notificato all'amministrazione straordinaria. E poi c'è l'altra, chiamiamola, spina del fianco del governo, ovvero la vicenda all'Italia. Sapete, c'è una scadenza, si immagina abbastanza improrrogabile, ma nel nostro paese non c'è mai questa certezza. Comunque, il 21 novembre dovrebbe scadere il termine per la presentazione delle offerte vincolanti e Lufthansa al momento resta abbastanza defilata, mentre Delta, la compagnia americana, ieri ha ribadito il proprio impegno a rilevare il 10% della nuova New Co, investendo appunto fino a 100 milioni di euro. Non di più però, al contrario appunto di quanto invece avevano chiesto Ferrovie dello Stato e Atlantia. Tutto questo mentre appunto il ministro dell'economia Gualtieri auspica il rispetto dei tempi e chiede un piano industriale convincente che permetta finalmente di voltare pagina. E adesso noi invece dobbiamo andare proprio da tutt'altra parte, dobbiamo andare in Israele. È stata una notte difficile, una notte di combattimenti, decine di razzi sono stati fra l'altro sparati questa mattina da Gaza verso Israele, mentre le sirene di allarme hanno cominciato a suonare soprattutto nella zona sud del paese, si sono udite fino a Tel Aviv, i rifugi sono stati aperti ad Ashkelon, le scuole sono chiuse ed è stato di emergenza ad Ashut. Tutto questo perché nella notte, scusate, nella striscia di Gaza l'esercito israeliano ha ucciso uno dei leader militari della Jihad islamica, Abul Ahatta, e con lui è rimasta uccisa anche la moglie. Un altro leader nelle stesse ore è stato oggetto in Siria di un attacco mentre si trovava a Damasco vicino all'ambasciata del Libano, quindi si prevedono giorni di alta tensione, a ore è stato convocato il consiglio di difesa che verrà presieduto dal premier Netanyahu. E adesso ci spostiamo allora direttamente in Iraq per andare a vedere intanto lo stato di salute dei militari italiani e le decisioni che sono state prese sulla sorte del nostro contingente. Il recente attacco al contingente in Iraq conferma che il terrorismo trasnazionale resta la principale minaccia per l'Italia e la comunità internazionale. È necessario continuare a garantire la nostra presenza nelle principali aree di instabilità e contribuire al contrasto comune del fenomeno. Così il comunicato al termine del Consiglio Supremo di Difesa presieduto al Quirinale dal capo dello Stato. Una esortazione a mantenere gli impegni all'estero delle forze armate mentre restano stabili le condizioni dei cinque militari italiani feriti domenica scorsa nel nord dell'Iraq. Una rivendicazione riconducibile all'ISIS attribuisce allo Stato Islamico la responsabilità per il ferimento dei soldati, la diffusa site, il sito di intelligence che controlla le attività di jihadisti in rete. Nel testo si parla di un'azione dell'esercito del califato ai danni della coalizione internazionale crociata nel distretto di Kirkuk con l'esplosione di un ordigno che avrebbe distrutto un veicolo e il ferimento di quattro soldati definiti crociati e di quattro apostati. Parole al baglio degli analisti che sembrano incongruenti con la ricostruzione fornita fin qui dalle nostre fonti militari. I cinque soldati italiani addestratori delle forze speciali erano al seguito della Task Force 44, unità mista con i peshmerga impegnata in una operazione di bonifica. Stavano per raggiungere i loro mezzi quando si sono imbattuti nell'esplosione di un ordigno di tipo rudimentale. Saranno trasferiti in Italia appena possibile. La vicenda è al baglio della magistratura italiana che ha aperto una indagine affidata al pool antiterrorismo della Procura di Roma. Gli investigatori hanno ricevuto una prima informativa da parte dei carabinieri del ROS. In Iraq sono al momento schierati 500 soldati italiani per addestrare le forze di sicurezza kurde e irachene. Possono contare per il supporto aereo su altri 300 militari di base in Kuwait. Attività che si svolgono da 2014 nell'ambito della missione internazionale Inerent Resolve, avviata a suo tempo dalle forze armate americane e poi allargata su richiesta del governo iracheno. È dell'operazione Prima Partica, attiva in una zona dove le cellule di fondamentalisti infiltrati sembrano pronte a tornare al contrattacco. Torniamo in qualche modo a parlare di Ilva, o meglio l'ha fatto ieri il Presidente del Consiglio incontrando la cancelliera Tedesca Angela Merkel alla quale ha chiesto una cooperazione anche dal punto di vista della gestione economica e industriale della questione acciaio. Non è però stato l'unico argomento del loro incontro. Anzi, diciamo che in agenda al primo posto c'era la questione immigrazione a partire dall'accordo di Malta che prevede, come sapete, la ridistribuzione dei migranti e che Angela Merkel ha approvato dicendo va però esteso anche ad altri paesi. Un'occasione importante l'incontro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il Premier Giuseppe Conte durante il quale è stato sottolineato l'impegno congiunto per affrontare le principali sfide e tra queste c'è sicuramente l'immigrazione. Uno sforzo comune con la Germania per la stabilizzazione in Libia e per gestire in ambito europeo l'emergenza migranti. La Merkel ha parlato del rispetto dei diritti umani, la cooperazione con la Guardia Costiera libica è di grande importanza, ha ricordato, ma dobbiamo coinvolgere anche l'UNHCR e le ONG e garantire gli standard ragionevoli sui diritti umani che non esistono in tutta la Libia. Plauso dal Presidente del Consiglio, voglio ringraziare pubblicamente il governo tedesco perché in materia di migrazioni non ha fatto mancare il suo aiuto all'Italia. La Germania, se parliamo di sensibilità sul quadro complessivo dei problemi e l'esigenza della ridistribuzione, ha detto Conte, è un paese in prima linea e questo va riconosciuto. Una posizione ripresa anche dalla cancelliera Merkel, resta ancora molto da fare per giungere a una giusta equazione dei compiti in Europa e da aggiunto sono molto lieta che la nuova Presidente della Commissione Europea abbia già stabilito che si occuperà fortemente dell'immigrazione e della ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati. Trovo giusto, ha detto la Merkel, che i rappresentanti francesi, italiani e tedeschi a Malta abbiano compiuto un primo passo per invitare altri paesi ad aggiungersi, almeno tra quelli volenterosi. Torno in un'aula giudiziaria Silvio Berlusconi, il processo è quello della trattativa Stato-Mafia. Sì, signor Presidente, io su indicazione dei miei avvocati intendo avvalermi della facoltà di non rispondere. Silvio Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere davanti al Tribunale di Palermo, convocato come testimone nel processo d'appello sulla presunta trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra, citato dalla difesa di Marcello Dell'Utri, condannato in primo grado a 12 anni. Il magistrato che presiede il processo, Angelo Pellino, spiega che in quanto indagato per reati probatoriamente collegati a quelli per cui qui si procede e anche ai fatti su cui lei dovrebbe deporre, il testo può rifiutarsi di deporre. Pellino si riferisce a processi di Firenze per le stragi del 1993 a Milano, Firenze e Roma e per gli attentati del 1994, dove Berlusconi è iscritto nel registro degli indagati. I giudici volevano sentire il leader di Forza Italia sull'accusa all'ex senatore del Popolo della Libertà, Dell'Utri, di essere stato il tramite delle minacce della mafia da recapitare al primo governo Berlusconi nel 1994. La decisione di Berlusconi di non deporre di fatto costituisce un problema per la difesa di Dell'Utri, che si vede negare dalla Corte anche la possibilità di recuperare la conferenza stampa del leader azzurro dell'anno scorso, nella quale negava di aver mai ricevuto minacce mafiose ed anzi ripendicava al suo governo importanti misure contro la mafia. La conferenza è agli atti, per questo la difesa di Dell'Utri, pur delusa, ha cercato di ridimensionare il peso del no di Berlusconi a parlare in aula. In America Latina adesso, per raccontarvi dell'evoluzione del colpo di Stato in Bolivia, l'ormai ex presidente Morales nella notte è andato in Messico. Evo Morales è ormai in Messico e la Bolivia, attraversata da violenti scontri tra sostenitori del presidente di Missionario e i suoi oppositori, sprofonda definitivamente in una crisi istituzionale dalla difficilissima soluzione. E' stato proprio Morales ad annunciare via Twitter di aver accettato l'asilo che ieri sera gli era stato offerto dal governo messicano. Sarò sempre allerta, tornerò presto con più forza e energia. Ha scritto Morales che nella notte ha abbandonato la regione di Cochabamba, dove si era rifugiato dopo aver dato le dimissioni sostanzialmente imposte gli prima dalle proteste di piazza per l'esito delle elezioni del 20 ottobre scorso, viziate secondo le opposizioni e l'organizzazione degli stati americani da Brogli, che gli avrebbero dato la vittoria al primo turno invece di sancire un ballottaggio con il suo avversario, Carlos Mesa, e poi, soprattutto, dal venirmeno del sostegno delle forze armate. Queste ultime sono andate in soccorso della polizia che ha chiesto il loro intervento per mettere fine alle violenze diventate incontrollabili negli ultimi due giorni, in particolare alla PAS e nella città gemella di El Alto. Intanto, mentre cresce la preoccupazione della comunità internazionale che si divide tra chi parla di colpo di Stato e chi, come Trump, esulta per quello che giudica un gran momento per la democrazia, oggi dovrebbe riunirsi il Parlamento per accettare le dimissioni di Morales e procedere alla transizione. Tuttavia, insieme al Presidente, si sono dimessi anche il suo vice, i Presidenti di Senato e Camera, il primo Vicepresidente del Senato. Ad assumere la guida del Paese dovrebbe dunque essere l'altra Vicepresidente del Senato, Janine Agnes Chavez, proveniente dalle fila dell'opposizione. Ma il Movimento per il Socialismo di Morales controlla ancora i due terzi di entrambi i rami del Parlamento e senza i suoi rappresentanti sarebbe impossibile raggiungere il quorum necessario a deliberare. Vedremo allora se in Bolivia si tornerà per l'appunto a votare così come aveva promesso all'ultimo lo stesso Morales, mentre invece, sapete, si è votato in Spagna domenica, ma la situazione non si è affatto sbrogliata. Ci risiamo, il nuovo Parlamento spagnolo non ha una maggioranza, un déjà vu rispetto a solo pochi mesi fa, quando ad aprile i cittadini furono chiamati alle urne. Questa volta i vinti e i vincitori sono leggermente cambiati, ma lo stallo è lo stesso. E dunque la fotografia uscita dalle urne domenica è questa. I socialisti del premiera di Inter in Sanchez conquistano 120 seggi con il 28% delle preferenze. 88 vanno ai popolari di Pablo Casado che recupera dal forte calo subito ad aprile. Ben 52 seggi vanno all'estrema destra di Vox che raddoppia con il 15%. E senza dubbio il suo leader Santiago Abascal, la vera sorpresa di queste elezioni. Siamo un argine al separatismo, gli spagnoli ci hanno votato per fare opposizione e noi, certo, non faciliteremo un governo del Partito Socialista, ha commentato ieri. Crolla invece Ciudadanos, il centro, che paga la sua virata a destra. Il suo leader Albert Rivera ha rassegnato ieri le dimissioni facendo un mea culpa. Cala anche Podemos di Pablo Iglesias dal 14 al 12%. E dunque si fanno due conti. Sanchez si guarda a destra e a sinistra per capire dove trovare l'appoggio per trovare una maggioranza. Servono 176 seggi e formare un governo. Uscire dall'empasca e da troppo tempo ormai caratterizza la politica spagnola. E la Realpolitik mostra che l'unica alleanza che porterebbe questa stabilità sarebbe quella con la destra moderata del PP. Sanchez, la già esclusa, resterebbe quindi l'alleanza con la sinistra di Podemos, saltata ad aprile per le troppe richieste di Iglesias e il desiderio di avere le mani libere di Sanchez. Ma comunque tramonta con queste elezioni il sogno di un governo monocolore tutto a sinistra, perché PSO e Podemos insieme arriverebbero solo a 155 seggi. Bisogna aprirsi quindi e coinvolgere i due partiti catalani. Ieri le piazze della Catalogna hanno ricominciato a riempirsi e i due partiti baschi. Lo sport ora con la nazionale di calcio in ritiro e le polemiche del campionato. Al termine di una settimana bollente per Inter e Napoli, è in casa Juventus che si è registrato il caso destinato a far discutere a lungo. Ieri, soltanto in tarda mattinata, Cristiano Ronaldo si è fatto vivo tramite social, senza fare riferimento alla sua sostituzione nel corso del match col Milan. Partita difficile, vittoria importante, quattro parole non di più. prima di dedicare le sue energie alla nazionale portoghese, impegnata con Lituania e Lussemburgo. Per un vertice con Sarri e la società si troverà il tempo più avanti. Da parte della Juve nessuna multa ai danni del suo campione. Esce bene dalla notte dello stadium soprattutto il tecnico, che per la seconda volta in quattro giorni ha avuto il coraggio di fare una scelta non certo facile. L'altro caso, quello legato a Mario Balotelli, è tornato d'attualità nel primo giorno del ritiro azzurro di Coverciano. Mancini ha spiegato di non averlo volto a convocare, nonostante le parole del Presidente federale Gravina. Se dovesse essere richiamato, venga richiamato perché sta facendo bene e può essere utile alla nazionale per questo. Insomma, poi è chiaro che in quel momento lì magari uno può pensare, come ha pensato il Presidente, di chiamarlo, perché però bisogna anche capire quali sono le motivazioni vere. Ci saranno un'altra possibilità per chiamarlo, ma perché lo merita. Dal CT anche un accenno alle molte interruzioni delle partite per visionare le immagini al VAR. Non mi stupisco, dice, noi siamo da sempre il paese delle polemiche. E da oggi si inizierà a parlare delle due sfide azzure contro Bosnia ed Armenia, decisive per allungare una serie di successi giunta sinora a quota 9 ed inserire l'Italia fra le teste di serie degli europei per il sorteggio di Bucarest del 30 novembre. 7.49, c'è Gaia Tortora che aspetta per la conduzione di Omnibus. Prima, come sempre, Paolo Sottocorona per darci gli aggiornamenti meteo. Io vi auguro una buona giornata e vi do l'appuntamento domani mattina alle 7. Grazie a tutti.